Sì, grazie Presidente. Io sono deluso, arrabbiato, rammaricato di come è stata gestita della superficialità con la quale è stata gestita una partita fondamentale per il futuro della città di Roma, per le prossime generazioni, come il Recovery Fund. Purtroppo questa opportunità non è stata valorizzata, non c'è stato un dialogo, non c'è stato un dibattito. La città di Roma ha presentato un mero elenco telefonico, una lista della spesa senza prospettiva, senza visione, se vogliamo anche senza anima. Il Consiglio Comunale non è stato minimamente coinvolto in una partita così strategica per il futuro della città. Infatti l'unico documento di Roma Capitale è una memoria di giunta del 30 agosto, quindi tra l'altro per restare nell'ambito della gerarchia delle fonti di un comune, insomma una memoria non è neanche un atto che rispecchia l'importanza che ha questa partita. Ripeto cose che ho detto tra l'altro già in quest'aula quando eravamo in discussione sul consiglio tematico su su ATAC o che ho anche già manifestato pubblicamente. È stata presentata una lista di 170 opere, quindi forse buona per fare post sui social network, ma molto meno efficace per ottenere dei finanziamenti. Dentro c'era un calderone con tutto e il contrario di tutto. Resto ovviamente nel mio campo sono stati messi insieme i barchi per le ZDL con le opere, le infrastrutture pesanti come i tram e le metropolitane, quindi due aspetti che non c'entrano nulla. Tra le opere pesanti presentate, anche qui è stato messo dentro un po' di tutto, faccio un esempio, tutta una serie di linee tramviari, alcune in avanzato stato di progettazione che quindi potevano magari sperare di ottenere un riconoscimento e quindi le dovute risorse, ma anche altre opere che erano indietro con la progettazione. Quindi faccio un esempio concreto, il tram Termini Giardinetti Tor Vergata che è già in fase avanzata di progettazione, poteva sicuramente avere questa opportunità di finanziamento, poteva sperare di averla. Il tram, il prolungamento del 2, che ovviamente è un'opera altrettanto strategica, ma la cui progettazione tra l'altro partirà in questi mesi, è stata fatta un'apposita gara, chiaramente è più indietro e quindi aveva meno possibilità. Ma mettere insieme tutte queste cose, probabilmente mi immagino anche dall'altra parte, chi ha ricevuto questo elenco ne ha compreso ben poco. Ripeto, quindi un'occasione mancata, poteva essere un'occasione anche per fare squadra, per fare strategia, per dialogare con le altre forze politiche, perché io penso la Metro C, piuttosto che il tram TVA, non è né di destra né di sinistra né del Movimento 5 Stelle, sono opere fondamentali che dobbiamo realizzare quanto prima, se vogliamo dare un'opportunità ancora a questa città e, ripeto, a noi e probabilmente anche alle prossime generazioni. Quindi, purtroppo, Presidente, ribadisco, questa è stata un'occasione mancata. Veramente invito tutti a leggere questa memoria del 30 agosto, che secondo me è anche offensiva per il tema, per la modalità con la quale è stato trattato questo tema così cruciale per noi. È chiaro adesso, oggi ce lo dobbiamo dire con franchezza, proviamo a recuperare con una mozione che sarà forse utile come manifestazione di intenti, dal punto di vista concreto, ho paura, ahimè, che sposterà poco, però sicuramente bene hanno fatto i colleghi a presentarla, quantomeno per provare a fare un dibattito su questa opportunità in Assemblea Camerino. Questo, ripeto, Presidente, me ne rammarico che una partita fondamentale per la città non sia stata minimamente trattata in Consiglio Comunale. Ricordiamo, ce lo dice anche il nostro Statuto, che il Consiglio Comunale e i consiglieri capitolini, in quanto eletti, rappresentano la comunità cittadina. Io mi auguro che ci sia modo comunque di recuperare, se non con questa, anche con altre risorse, con altre possibilità, ma su queste opere serve un'interlocuzione diretta e costante con il Ministero, con i vertici del Governo, con gli altri enti come la Regione che sicuramente vanno coinvolti. Grazie, Presidente.